Quando io ero vicino non era come ora, cioè ora se hai l'abbonamento a Eurosport Player e magari anche qualche problema psicologico come sottoscritto per carità, comunque le partite te le puoi vedere tutte, il campionato italiano te le puoi guardare tutte, qualcuno le recuperi, fai, dici, all'epoca non era in quel modo lì, all'epoca davano una partita a settimana in televisione, era l'unica partita che potevi vedere, io ho in mente un ricordo di una gara tra l'allora Scavolini, credo fosse ancora Scavolini, Pesaro e la Fortitudo che erano i primi freddi, era un sabato pomeriggio di primo inverno, sarà stato novembre, giù di lì e fu una partita storica perché fu probabilmente una delle più grandi partite giocate da Alfonso Ford, quantomeno nel nostro campionato, fece una roba tipo 39 punti, una roba di questo tipo. In quell'occasione lì io mi ricordo che quella partita fu trasmessa sulla Rai e la Rai la stuprò a livello proprio comunicativo, mi dispiace, non c'è un altro termine, perché si collegarono a secondo quarto inoltrato, prima c'era non so quale altro programma, e poi staccarono la linea a qualche minuto dalla fine della partita per lasciare spazio a un'altra cosa di dubbio, gusto che c'era in palinsesto. Questa cosa qui però succedeva quasi vent'anni fa ormai, che possono sembrare pochi, ma nel mondo della comunicazione, in questo mondo qui è un'era geologica, cioè era proprio preistoria, io mai avrei potuto immaginare che una roba di questo genere si potesse praticamente ripetere oggi, nel mondo di adesso, più di vent'anni dopo. E invece no, invece è successa la stessa identica cosa, domenica, in una partita che noi appassionati aspettavamo da un anno praticamente, perché poi quest'anno c'è stata la pandemia e quindi non ci hanno tolto i playoff, per ovvi motivi, quindi insomma, nell'ambiente era una roba a cui tenevamo, ma non soltanto noi, c'era stato anche un minimo di comunicazione intorno all'evento, e invece niente, perché il collegamento è arrivato a poco dalla palla a due, quindi non c'è stato manco modo di fare interviste, approfondimenti, era la prima di Bellinelli, voglio dire, c'erano di storie da raccontare, e poi di nuovo lo smacco di chiudere anzitempo la diretta e trasferirla su Rai Sport a questo giro. Io non lo so, per fare questo edutoriale di oggi, come vedete si sta andando per le lunghe, però ragazzi a questo giro me lo dovete concedere un attimino, ci ho pensato tanto, perché avevo troppe idee lì, troppe cose da dover dire, e dovevo condensarle, e quindi rimuginandoci, riflettendo, facendo, pensando, mi sono reso conto alla fine, con mia anche sorpresa, che in realtà io non ce l'ho con la Rai, non ce l'ho con la Rai, perché, pensateci un attimo, cioè, la Rai, obiettivamente, ma cosa deve far più di così? Cioè, più di così, più di quello che sta facendo, cosa deve fare per farci capire a noi che della palla canestro proprio non gliene può fregare di meno? Sono vent'anni e passa che veniamo trattati in questo modo dalla Rai, che altro devo, cioè, il problema è nostro, il problema è nostro che ancora questa cosa non si è capita, e, boh, cioè, c'è un ente che è predisposto a questo che ancora non ha capito, che non ha senso, è una mia opinione, eh, mia opinione personale, non ha senso per quei due spiccioli che ci danno continuare a dare i diritti alla Rai. Poi ho letto oggi comunicato stampa, doveroso, di Gandini, ma mi è sembrato anche abbastanza di circostanza, insomma, sì, che doveva fare, cioè, quello era proprio il minimo che si poteva fare, ma la mia domanda è perché? Cioè, Lega Basket, perché? Che poi, tra l'altro, riflettendoci un attimo, quel bacino di utenza, questa è stata presentata come una grande occasione di visibilità per il basket, ma quel bacino di utenza al quale noi si cerca di ambire come movimento, nuovi tifosi, nuovi appassionati, magari gente giovane possa portare, no, nuova l'infa alla canestra italiana, non c'è il pomeriggio della domenica su Rai 2, non la guarda Rai 2 la domenica pomeriggio. Quella gente lì è qui, è su YouTube la domenica pomeriggio, se fuori piove magari, è su Twitch, è sul web, e tra l'altro, cosa ancora più paradossale, qui, su YouTube, su Twitch, sul web, sono abituati anche a una qualità che è nettamente superiore, qualità proprio audio-video, no che tutte le volte che a un telecronista deve dire, p, un videomaker da qualche parte del mondo muore dai dispiacere, eh? Questo ce l'ho con te, Rai, 10 euro costa un filtro antipop, 10 euro, te li do io, 10 euro. MVP, miglior giocatore di giornata, uno che non è giocatore, Ettore Messina, perché obiettivamente, per quanto poco relativamente potesse contare, ma la virtuale gara 1, o comunque gara 0, se mi passate il termine di questa sfida, che probabilmente rivedremo ai playoff in Coppa Italia quando sarà, intanto l'ha portata a casa. E ai playoff in Coppa Italia sicuramente conterà di più, però è un segnale che l'Olimpia è riuscita a mandare. Messina ha azzeccato il turnover, è riuscito anche a far fronte a quello che era l'esordio di Marco Bellinelli, che al di là dell'aspetto tecnico era riuscito comunque a caricare un po' tutto l'ambiente, è stato semplicemente Ettore Messina, probabilmente il più grande allenatore italiano della storia della pallacanestro, nonché allenatore che avrebbe meritato anche di essere il primo italiano head coach in NBA. Però si era messo dietro a Popovic, che è un po' come se i nipoti di Highlander volessero campare con l'eredità, capisci? Migliore italiano Simone Zanotti, che ha fatto tipo più di 21 punti sbagliando un solo tiro in tutta la partita. C'è stato a rimbalzo, è andato forte anche in difesa e c'era più che altro nel momento in cui la VL ha piazzato quello che poi sarebbe stato il parziale decisivo per la vittoria della gara. Con Jasmin Revesa non è un caso, il supporting cast, i giocatori di contorno tendono sempre a migliorare durante la stagione e in generale sotto la cura di Jasmin Revesa. Anche perché sennò fai la fine di Henry Drell, che ha acchiappato una pacca sulla schiena che Cannavacciuolo ha il confronto pare a Topo Ciccio. Cercatela, non ve la posso mettere, c'è i copyright. Cercatela. Reggio Emilia contro Cantù. Bocciato Thomas Kiesling, perché nell'ultime quattro partite, me lo so segnato, è scritto che ha fatto meno 11 di valutazione. Meno 11 di valutazione sommata insieme le ultime quattro partite. Ha tirato 4 su 21 dal campo e 1 su 12 da 3. Anche Johnson ha fatto schifo, Bostic così così, Baldi Rossi non si è visto, ma Thomas Kiesling obiettivo. Cioè, meno 11 di valutazione in quattro partite. Che roba è? Per un giocatore che comunque sarebbe un titolare del quintetto, sarebbe anche straniero. Uno che l'anno scorso, tra l'altro, alla Virtus.Roma era stata una delle rivelazioni del campionato. Uno che viene da lontano e ha fatto le Minors, la gavetta. Non lo so. Secondo me l'hanno tipo sostituito, hanno mandato un Sosia. Tipo Eminem, no? Che dice che in realtà è morto e ora c'è un Sosia e... boh. Promosso Marty Lunen, perché ha segnato solo da 3 in questa partita, tra l'altro ha tirato anche male come percentuali, eppure l'ha dominata dall'inizio alla fine, sia a livello tattico che a livello proprio di leadership, di carisma. È stato il vero e proprio playmaker aggiunto di Cantu in questa partita. È quasi andato in doppia-doppia con l'assist, ha anche strizzato l'occhio alla tripla-doppia e ha tirato giù 12 rimbalzi. 12 rimbalzi è impressionante, soprattutto per uno che l'ultimo salto l'ha fatto quando giocava con Michele L'Alpino Mian e il Cardinale Mazzarino, che ora l'hanno fatto papa, manca po' da quanto tempo è passato, per dire. Sassari contro Brescia Promosso Miro Bilan, perché esattamente che tipo di campionato sta tirando fuori Miro Bilan in questa stagione? Cioè, io mi sono segnato anche le cifre laggiù, ma mi vergogna di vele. È il miglior centro del campionato o il secondo che arriva terzo. In questa partita se l'è mangiata viva, ha fatto il suo e quello di Tillman, altro capitolo che poi prima o dopo andrà riaperto per forza di cose. Quando gioca in questo modo qui, Sassari è ingiocabile, cioè lui non gli puoi far nulla. I pororistici dall'altra parte aveva chiesto se gli danno proprio 5 falli subito così d'ufficio, senza manca entrare, perché così almeno si risparmiava tempo un po' tutti e... Bocciato Drew Crawford, perché semplicemente è irriconoscibile in questo momento. Cioè, se venisse giù un alieno e gli dicessi che questo qui due anni fa era l'MVP di campionato, ci invaderebbero con una cattiveria che tipo Independence Day ai confronto pareva cicciobello dolce notte. Non lo so, è vero che mancava Luca Vitali, che comunque è uno che ti aiuta un attimo a metterti in ritmo, a metterti in partita, ti facilita nel trovare le soluzioni migliori, però io non sono sicurissimo che a questo punto si riesca a recuperare questo Drew Crawford. E se non ci riesce Maurizio Buscaglia, secondo me, a livello psicologico, non ci riesce nessuno. Pesaro contro Trieste. Promossa la semplicità, perché Pesaro in questa partita ci ha avuto un centro-centro, vero, che è andato in doppia-doppia con i rimbalzi, un playmaker-playmaker, vero, che è andato in doppia-doppia con gli assist, e un allenatore esperto che ha messo più o meno tutti al loro agio all'interno del sistema. Stop! Pesaro è quinta in... in campionato in questo momento. Quinta in campionato con la semplicità. Cioè non è detto che per forza tutte le volte la soluzione giusta debba essere quella più complicata, più difficile, più cervellotica in assoluto. La semplicità. Tipo, perché io non so più buono di mangiare un pezzettaccio di panettone normale. E quello con la cioccolata, e quello con il liquore, quello con le pere, quello con il tartufo anche. Ho mangiato, ho assaggiato quest'anno. Ma un panettonaccio normale, della coppe, a un euro. Bocciato Ike Udano. Perché ha giocato male? E perché ha giocato anche poco. Partito dalla panchina, ha giocato 18 minuti più o meno. Ok che la condizione fisica non è neanche lontanamente vicina al massimo possibile, d'accordo? Che doveva recuperare dagli infortuni che aveva saltato le partite. Quello che vi pare. Però obiettivamente, a prescindere da tutto, secondo me la posizione di Udano all'interno delle rotazioni, all'interno delle gerarchie di Trieste, andrebbe un attimino rivista o quantomeno chiarita. Perché con tutto il rispetto per Delia, Maudano è uno di quei giocatori che, per il livello del nostro campionato, può essere dominante. Non a caso l'unica, unica, una partita in cui ha giocato più di 25 minuti in questa stagione è andato quasi in tripla-doppia. Il problema è che poi, se invece lo fai giocare 20 minuti o anche meno, ti diventa quasi dannoso, quasi alla Justin Knox, per dirne uno. E nel frattempo, Milton Doyle, aka Kevin Durant, ha messo sette triple. Erano Michelini e Mara Maionchi a fare i talent scout. E mi è suonato il loro relocio. Varese contro Treviso. Bocciata la confusione, in generale, perché Anderson è stato tagliato e non è stato preso nessuno al posto suo, perché è stato preso Bin in uno dei pochi ruoli, forse l'unico, in cui Varese poteva anche essere già coperta così come era, ci sono delle attenuanti. Con Jones è andata come è andata, Jakovic è l'ombra di se stesso del giocatore che era. Bulleri sta allenando alla prima esperienza, tra l'altro, da capo allenatore in Serie A, una squadra che non ha costruito lui in prima persona, ma che si è ritrovato a dove allenare. Quello su Meho Vulu non era probabilmente antisportivo. Quello che volete. Però c'è un po' di confusione, in generale. Anche sui rumors c'è un po' di confusione. Se davvero dovessi rivedere Attilio Haia su quella panchina lì, darei la colpa ai licore di panettone di prima. Cioè, è proprio impossibile. Promosso Christian Meho Vulu. Perché quando non fa falli stupidi, quando non fa falli stupidi, è un gran bel giocatore. E al di là della doppia cifra di rimbalzi, con quel fisico lì, con quell'atletismo lì, con quella verticalità lì, mi colpisce di più il 2 su 2 ai tiri liberi sul finale, tra l'altro nel momento più importante e più concitato in assoluto della partita. Anche perché, se questo giocatore qui tira a tiri liberi con più dell'80%, come sta tirando in stagione fino a questo momento, anche l'Ecce Meho Vulu non regge più, come cosa. Eh? Ecco, come le scuse per Kerro. Non reggano più. Io non so più che dico. Non lo so. Virtus Bologna contro Milano. Bocciata la panchina. Perché soprattutto quando giochi contro l'Olimpia Milano, che non finisce mai come squadra, le prestazioni dei Ricci, dei Tessitori, degli Abbas, degli Adams, degli Alibegovic, sono fondamentali, imprescindibili. Perché se no finisce sempre che sei sempre attaccato alle invenzioni e alle magie di Milos Teodosic. Che anche lui esce dalla panchina, ma quella è risaputamente una farza. E poi arrivi magari nel finale della partita, nei momenti più importanti, in quelli decisivi, e Milo Teodosic è poco lucido. Perché ha giocato troppo, perché si è caricato troppe responsabilità sulle spalle durante tutta la partita. E invece il finale è importante. Importantissimo. Vero Rai2? Eh. Promosso, Zach Lidei. Perché ha avuto su questa partita lo stesso impatto che ha avuto sul campionato e che non si vedeva in Italia da tempi di lavrinoviciana memoria. Cioè questo è secondo in assoluto in tutto il campionato per valutazione, gioca 22 minuti. E di nuovo si torna al discorso di prima su Messina. Perché uno normale dice, ma se questo è secondo per valutazione giocando 22 minuti, io 40 minuti lo fai giocare. Invece Messina ha capito che probabilmente, facendolo giocare di più, darebbe difficilmente il meglio di se stesso, come invece fa prendendolo a piccole dosi. Magari entra, ti tira fuori l'ali-oop da Campetto, ispirato dal Ciacio Rodriguez, e via. Comunque, Ciacio Rodriguez, a proposito di Campetto, se qui giochino lì di picchiagliela sulla schiena e ripigliarla, la fai ai Campetto, c'è cazzotti. Cioè viene proprio fuori la rissa. E a Milano ora non ci gioca manco più Samardo Samuels, che è uno che io personalmente se dovessi fa una rissa, lo vorrei sempre con me. Fortitudo Bologna contro Venezia. Promosse le rotazioni accorciate, perché l'infermeria è riuscita laddove i miei suggerimenti non erano riusciti a arrivare. Ma non perché sono bravo io, ma perché da sempre, quando una squadra è in confusione, la prima cosa da fare è cercare di fare chiarezza, quindi restringere il più possibile le rotazioni e responsabilizzare i giocatori. Fuori Cousine, fuori Epp, fuori Aradori, fuori Saunders, quelli che hanno giocato sapevano che cosa gli veniva richiesto nel dettaglio. Sapevano qual era il loro ruolo, il loro compito nella squadra. Adrian Banks, per esempio, è tornato a fare canestro, ha tirato anche male da fuori come percentuali, eppure ha fatto canestro e la Fortitudo ha vinto. Poi, siccome quando una stagione è maledetta, è maledetta, chi è che ha tirato fuori tutte le giocate decisive, la tripla, il recupero, i tiri liberi e tutto il resto? Sabatini, che l'avevi bello e praticamente mandato via, e quindi ora... boh. Bocciato Walter De Raffaele. Stavolta sì, perché più volte l'ho pubblicamente elogiato, perché secondo me il progetto della Reir in questi anni è probabilmente uno dei migliori in assoluto nella storia, quantomeno recente, del nostro basket, però a questo giro io ho almeno un paio di perplessità. La prima. Perché prima di arrivare a quella tripla decisiva di Sabatini, di cui si parlava prima, la Fortitudo in quell'azione ha preso due o tre, non mi ricordo quanti rimbalzi offensivi, perché in quel momento lì la Reir giocava con Dei da 5, Watt e Fotu in panchina e Wittmar in tribuna. Prima perplessità. Seconda perplessità. E se al posto di Stone, la tripla della vittoria libero con tre metri di spazio, l'avesse presa un playmaker americano realizzatore? Eh? Perché io ormai sono vecchio e i vecchi ripetano sempre, raccontano, no? Sempre le stesse storie, il Vietnam è il playmaker realizzatore... Cremona contro Brindisi. Promosso T.J. Williams, perché settimana scorsa l'avevo bocciato perché non ha tiro da fuori e la settimana dopo, cioè questa settimana, la partita me l'ha dominata in senso assoluto senza manco tiracci da fuori. Penetrazioni, scarichi, assist, falli subiti, tiri liberi anche. In realtà l'aveva cominciata male, se ci si pensa un attimo la partita, problemi di falli e tutta quella roba lì. Poi però è entrato Peppe Poeta, gli ha mostrato la via, gli ha fatto vedere che la difesa di Brindisi le soffriva quel tipo di penetrazione lì e da lì in poi T.J. Williams ci ha proprio sguazzato. Anzi, Peppe Poeta potrebbe proprio fare da mentore in un certo senso per T.J. Williams. In tutto tranne che Pecapelli, perché Pecapelli, Peppe, io e te, bisognerebbe anzi andare a noi proprio a ripetizioni da T.J. Williams. Bocciata la panchina, perché è quasi impossibile vincere in Serie A, soprattutto fuori casa, se tutta la panchina insieme, tutti i giocatori che tescono dalla panchina sommati insieme ti tirano fuori tre punti. Me lo sono segnato. Tre punti e meno nove di valutazione. D'accordo che per Brindisi il vero valore aggiunto è il quintetto, cioè quei cinque giocatori lì che obiettivamente sia presi a livello individuale, singolo, hanno qualche cosa in più, ma anche proprio per come giocano insieme, per la chimica, per l'amalgama di squadra, veramente sono forse uno dei migliori quintetti in assoluto del campionato. Però con una panchina a questo livello, per come si è dimostrata in questa partita, diventa difficile. A prescindere dal fatto che se quello di Harrison era antisportivo, Rodman, capisci, cioè l'ergast, ma la ghigliottina proprio, cioè tecnico, non antisportivo, tecnico. Detto questo, Fanta Basket, campionato di campo aperto su Dunkest, i codici FF93996D, siamo quasi du mila squadre, du mila squadre fa quasi paura dillo, e di queste du mila squadre questa tredicesima giornata l'ha vinta. Il Real Chapano, o Real, secondo se tu la leggi alla spagnola o all'inglese. Bilan, titolare, capitano, Filipovic, Shields, Fantinelli e Robinson in quintetto, Meko Vulu da sesto uomo, De Vecchi, Imbrou, Procida e Diouf in panchina, Luca Dalmonte allenatore. E questa qui, invece, come al solito, è la classifica ufficiale aggiornata, i primi dieci classificati, infine a questo momento, conclusa la tredicesima giornata di stagione regolare, sempre campionato di campo aperto. E basta, a questo giro ho chiacchierato un monte, c'è stata un intro che non finisce mai, me ne scuso, mi dovevo sfogare, noi ci si rivede domani qui su YouTube, ovviamente, perché c'è il quasi gaming, e giovedì in live si tornerà però a parlare di Serie A, quindi di LBA su Twitch, e poi venerdì è festa, e sabato lo sapete, sabato, sabato, ma aspetto di tutto per sabato.